ciao bambini venite con me a fare una cosa allora faremo merenda insieme prima ci laviamo le mani con il sabone asciughiamo bene poi prenderemo due arance un bicchiere un coltello e lo spremi agrumi tagliamo l'arancio faremo una buonissima spremuta tagliamo l'arancia guardate un po venite con me andiamo così a premere l'arancia contiene tanta vitamina c è un antistress antiossidante ci rende più forti dei veri campioni vedete adesso l'abbiamo spremuto bene bene lo togliamo prendiamo l'altro vediamo un po com'è ma è buonissima la vostra com'è venuta fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere tremendo